Crea un'arena Beyblade! Costruisci un'officina meccanica Hot Wheels! Ripristina le vecchie pale e crea una pista! Guarda il nostro nuovo video per imparare semplici trucchetti per i tuoi giocattoli preferiti! Benvenuti nell'officina meccanica Hot Blade! Ripariamo e ristrutturiamo i tuoi giocattoli preferiti proprio qui! Ed ecco il proprietario del negozio, lo stesso Ben Blade! È pronto a ricevere i clienti! Di recente ha terminato la costruzione di una concessionaria a più livelli Hot Wheels! Taglia il tubo della pellicola trasparente in quattro parti! Rivesti con vernice acrilica! Copri una scatola di legno con vernice acrilica bianca e incollaci dentro i tubi! Attacca la stampa del cartello del garage! Metti un'auto in ogni tubo! Ben Blade fa l'inventario di tutte le sue macchinine, nuove e vecchie! Ed ecco il nostro primo cliente! Steve gli chiede di sostituire una parte della sua auto e ha scelto una grande concessionaria per la sua collezione! Ben Blade è così felice di mostrargli il suo spazioso salone! Ma Steve è un vero fuori pista! Chiede a Ben di aggiungere un po' di adrenalina alla sua vita? Ben ha ciò di cui ha bisogno! Una pista per le sue macchinine! Incolla degli adesivi che richiamano una pista da racing su un foglio di gomma piuma! Disegna le finisce sulla pista con un pennarello bianco! Aggiungi i divisori di corsia con nastro biadesivo e attacca i Lego! Appoggia la pista sul retro della concessionaria per creare le gradinate! Appoggia un foglio di gomma piuma e crea le gradinate con i Lego! Riempi gli spalti con minifigure Lego come spettatori! Ben Blade aumenta il livello di adrenalina del gioco! Sistema la rampa! Gli spettatori sono pronti! Le macchine da corsa prendono il loro posto! Uno, due, tre! Abbiamo un vincitore! A Steve piace questa pista! La tiene tutta per sé! Che ne pensi di un parcheggio? Ragazzi! Il negozio Hot Blade ha un nuovo cliente! Cowboy Greg! Un serio giocatore di Beyblade! Ha una richiesta insolita! Trasformare la semplice plastica in una super arena per i suoi Beyblade! Prendi un normale stadio del Beyblade e segnalo con pennarelli permanenti! Dividilo in quattro settori! Disegna un cerchio nel centro e crea un divisorio lungo il perimetro dello stadio! Traccia gli esagoni con un modello! Riempi tutta l'arena! Copri le pareti esterne con un foglio di gomma piuma giallo! Attacca gli adesivi all'interno! Ben Blade è un vero mago! La nostra arena di prima classe per le competizioni è pronta! Si parte! Ma Ben Blade si fa beffe del vecchio equipaggiamento del cowboy! Non va bene! Questo Beyblade ha bisogno di un aggiornamento! Smonta un vecchio Beyblade! Decora la parte trasparente con vernici per vetro colorato! Non appena la vernice è asciutta rimonta il Beyblade! Ben Blade dà al cowboy il suo Beyblade nuovo e migliorato! Non è un capolavoro! Che la battaglia abbia inizio! Il Beyblade restaurato ha distrutto il suo avversario! I cowboy vincono sempre! E non dimenticare la custodia! Ritaglia una porta rettangolare da un tubo di cartone! Scolpisci un lato con un punteruolo in modo che la porta si apra! Metti all'interno un foglio arrotolato di feltro! Traccia il coperchio sul feltro! E ritaglia ne due cerchi! Copri il coperchio e la base del tubo con il feltro! Segna l'apertura per la porta sul feltro! E ritaglia ne un lembo! Incolla il feltro all'interno della porta! Usa nastro biadesivo! Copri il tubo con carta decorativa autoadesiva! Incolla il velcro sulla porta! Crea una maniglia con una cinghia e decora la custodia con adesivi! Traccia di nero i contorni degli adesivi! Inserisci i Beyblade all'interno della custodia! Il cowboy Greg nasconde tutti i suoi Blade nella custodia! Grazie Ben Blade! Sei il migliore amico! Il nostro nuovo cliente è Crybaby Ron! Le sue macchine hanno bisogno di diagnostica e manutenzione! Sei arrivato nel posto giusto! La mia officina per macchinine è al tuo servizio! Contrassegna le pareti su una grande scatola rettangolare! Crea dei fori per le porte! Decora le pareti con cartone ondulato! Falle assomigliare a quelle di un'officina! Colora con vernice e acrilica! Attacca uno spiedino di legno sopra le porte! Dipingi pareti e pavimento con vernice argento! Copri il coperchio di una scatola con un foglio di plastica trasparente! Decora le pareti interne con feltro! Taglia due archi dal polistirolo! Taglia un pezzo rettangolare di polistirolo! Rismussa i bordi e incolla la piattaforma nella scatola! Incollaci dentro un muro e una striscia stampata! Taglia a metà uno scovolino e incolla le due metà in un'arcata di polistirolo! Metti l'arco sulla piattaforma! Taglia un foglio di feltro a strisce ma non fino in fondo! Attaccalo al secondo arco! Decora le pareti con adesivi Yacht Wheels! Crea un sollevatore con il polistirolo e il cartone decorativo! Taglia le cuffie rotte! Realizza un computer per la diagnostica dal polistirolo! Incollaci sopra una cuffia con il filo! Collega un monitor modello per computer alla cuffia e collega una tastiera modello! Realizza una mensola con anima in gomma piuma e pezzi di stuzzicadenti! Crea un compressore per gomme con tappi di plastica e uno spinotto! Colorali con vernice acrilica! Incolla le ruote di plastica di una macchinina alla base! Metti tutti i pezzi nell'officina! Ben Blade porta l'auto nell'officina! Passa attraverso la diagnostica e gonfia i suoi pneumatici! Non dimentichiamoci di lavare l'auto! Servizio incredibile! Le macchine di Ron sono pulite! I loro freni sono perfettamente funzionanti! Ron vuole qualcos'altro! Tre delle sue macchine hanno bisogno di una messa a punto! Ben vedrà cosa potrà fare! Pulisci delle vecchie auto con alcol denaturato! Rivesti una macchina con smalto ad effetto termico! Colora le finestre con smalto trasparente! Fai un disegno sulla macchina con un pennello sottile! Aggiungi dettagli con smalto bianco! Copri la seconda auto con smalto glitterato! Aggiungi dettagli con un altro colore luminoso! Copri le strisce originali sulla terza automobile con del nastro adesivo! Rivesti il resto dell'auto con smalto colorato! Lascia le finestre trasparenti! Rimuovi il nastro adesivo e dipingi le strisce con un altro smalto colorato! Dopo un paio di minuti le macchine nuove e migliorate escono dal negozio! Che meraviglia! Ma c'è di più! Ben mostra una nuova funzione! Immerge la macchina in un bicchiere di acqua calda e cambia colore! Che ne dici? È un'auto miracolo! Ma non è ancora tutto! Ben dà al suo cliente preferito un bonus, una custodia per il trasporto delle sue auto! Prendi un porta pranzo di plastica, taglia due aperture per le maniglie con un coltello caldo e inserisci una maniglia di plastica da una scatola di giocattoli. Segna la dimensione della scatola su un pezzo di feltro. Taglia! Attacca il nastro biadesivo e incolla il feltro all'interno della scatola. Copri entrambi i lati. Dividi una striscia di feltro in parti uguali. Realizza pieghe con nastro biadesivo e metti il divisore nella scatola. Posiziona le vetture all'interno. Incolla la stampa adesiva Hot Wheels sul coperchio. Ron mette tutte le sue auto pulite e rinnovate nell'organizzatore. Grazie mille, signor Blade, per il servizio di auto di prima classe! Ben sta testando alcune blades e ha un nuovo cliente. Kiddo ha un sacco di Beyblade, ma non un singolo stadio. Ben Blade aiuterà questo ragazzo! Taglia una bacinella di plastica con un coltello riscaldato. Gira il fondo e incollalo nella parte superiore come se fosse un supporto. Taglia l'isolamento di un tubo longitudinalmente. Mettilo sul bordo e incollalo. Copri le pareti interne dell'arena con primer acrilico e coloralo con vernice acrilica. Metti lo smalto acrilico sulla parte superiore. Decora lo stadio con adesivi stampati. Ora Kiddo ha un posto dove lanciare le sue blades. I Ben Blade regala al ragazzo dei souvenir come regalo di addio, magneti e porta chiavi. prendi una vecchia macchinina e la parte superiore di un Beyblade. Incolla piccoli magneti su un nastro di gomma piuma B adesivo. Ritagliali e attaccali ai giocattoli. Attacca gli anelli porta chiavi su un aeroplano e su una parte di un Beyblade. Scegli un regalo, un magnete o un porta chiavi. Kiddo non sa decidere. Sono tutti fantastici! Beh, allora prendili tutti! Ti sono piaciute le nostre geniali soluzioni per i tuoi giocattoli preferiti? Scrivi nei commenti quale userai per le Hot Wheels o Beyblade. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e fai click sulla campanella per non perdere i nuovi suggerimenti per giocattoli di Troom Troom!